E questo è pacifico, se uno vuole fare politica all'interno di uno Stato di diritto non deve fare altro che partecipare alle elezioni e vedere se vi è un consenso, quindi prendere i voti. Ma io registro un cambio di tenore però all'interno dell'arco anche parlamentare, cioè quando c'erano, e ce le ricordiamo tutti, i Francesco Saverio Borrelli che invitavano la gente alla resistenza, ce lo ricordiamo tutti, resistere, resistere, resistere. Esatto, lì non mi sembra che dalla parte dell'allora sinistra, di quelli che oggi militano nel Partito Democratico, vi fu una difesa comunque delle prerogative del governo, della necessità di tenere i toni bassi, anzi venne ampiamente strumentalizzato. Nel momento in cui la magistratura si concentra su quello che oggi è il partito di maggioranza relativa all'interno del Parlamento, arrestando, inquisendo, condannando comunque più o meno un esponente del Partito Democratico ogni tre giorni, invece il Ministro della Giustizia comincia a farsi sentire, dichiara che gli esponenti del CSM non possono parlare di queste cose, insomma vi sarebbe un attacco da parte della magistratura nei confronti della parte politica. Un cambio di registro che personalmente mi interessa e che mi fa anche piacere. Ciò premesso, io ritengo obiettivamente che coloro che hanno comunque incarichi all'interno della magistratura molto importanti dovrebbero anche fare attenzione alle parole che dicono. Si dice sempre io ho fiducia dalla magistratura, la magistratura faccia il suo corso. Sarebbe bello anche vedere però ogni tanto magari magistrati che alla fine di una lunga inchiesta che magari ha anche condannato l'obbligo politico e sociale, diversi esponenti politici, poi vedere alla prova dei fatti invece crollare il castello accusatorio. Sarebbe bello vedere però anche che questi magistrati in qualche modo paghino il fio. Non facciano carriera, come pure il successo. Come? Non facciano carriera, insomma, come pure il successo. Esatto, direi che l'automatismo delle carriere quantomeno dovrebbe essere una delle questioni da porre in discussione. Ma ripeto, ci mancherebbe, ci sono anche medici che sbagliano, solitamente quando sbagliano poi sono costretti anche a pagare. Vedere comunque magistrati che magari hanno rovinato, perché qui parliamo anche proprio di rovinare la vita di persone o di famiglie, poi come nulla comunque proseguire la loro carriera fino ad arrivare magari in Cassazione, fino ad arrivare magari a prescedere dai tribunali, un po' fa specie. Ciò premesso vuol dire che i magistrati non possono sbagliare. Possono sbagliare ma è anche giusto che chi sbaglia, come in tutte le professioni del mondo, devono pagare. Allora, sì, sì, è chiarissimo il suo pensiero.